medici e infermieri novax 150 prossime al reintegro incidenti stradali afano feriti quattro giovani altra vincita a pesaro con la lotteria degli scontrini festival gad vince il sirano della compagnia archibugio a pesaro si gira un film ispirato alla vita di Giorgia Righi una buona serata a tutti voi pubblico di Rossini tv ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione serale di Rossini news primo telegiornale di questa settimana l'ultimo di questo mese di ottobre alle porte c'è un mese di novembre che chiude un importante parentesi sulla lotta alla pandemia e sul tema delle green pass perché si sta infatti discutendo proprio in queste ore a livello ministeriale del reintegro anticipato di quei medici e infermieri novax sospesi dalla professione alla luce degli ultimi decreti governativi il nuovo provvedimento a quanto pare riammetterebbe invece al lavoro circa 150 professionisti marchigiani i medici e gli infermieri novax sospesi dalla professione fino a fine 2022 potrebbero rientrare al lavoro nel giro di pochi giorni l'argomento è oggetto di discussione proprio in queste ore all'interno del consiglio dei ministri del nuovo governo meloni alla luce della decadenza di tante regole anti covid che hanno caratterizzato gli ultimi due anni il governo draghi aveva infatti imposto il divieto di esercitare la professione sanitaria per i professionisti novax fino al 31 dicembre il governo meloni potrebbe anticipare il rientro di circa due mesi nelle marche sono 150 professionisti fra medici infermieri fisioterapisti e os che potrebbero essere reintegrati di questi 82 sono i dipendenti asur sospesi dalle 5 aree vaste provinciali all'ospedale di pesero erano invece 33 i professionisti sospesi fra infermieri os e tecnici di laboratorio insomma si sta per voltare un'altra pagina su pandemia e green pass con l'asur marche che attende solo la circolare utile a effettuare i reintegri passiamo alla cronaca e lo facciamo per parlare di due incidenti stradali che si sono consumati la notte scorsa a fano il primo attorno alle 4 del mattino lungo la strada flaminia dove una vecchia fiat panda fuori controllo con a bordo due ragazze un ragazzo tutti tra i 21 e 22 anni è andata contro un guardrail i tre giovani estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso ma dagli ultimi aggiornamenti risultano fuori pericolo di vita trasportato in codice rosso anche il ragazzo che un'ora e un quarto dopo sempre a fano si è schiantato in sella la sua moto onda contro una mercedes l'impatto violento avvenuto in viale piceno ha provocato al ragazzo la frattura degli arti superiori e inferiori sul posto oltre ai pompieri anche 118 e carabinieri e carabinieri che sono anche i protagonisti del nostro prossimo servizio che riguarda la presentazione del calendario storico dell'arma per l'anno 2023 un appuntamento quello col calendario che ha quasi un secolo di vita e che vede quest'anno ognuno dei 12 mesi riportare storie legate alla tematica della sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente il calendario storico dell'arma dei carabinieri continua a essere lo specchio del paese quello dell'edizione 2023 affronta un tema quanto mai attuale di interesse generale come la salvaguardia dell'ambiente illustrandolo con lo stesso linguaggio dei suoi lettori e sollecitando le generazioni a pretendere di vivere un futuro migliore un appuntamento significativo da quasi un secolo di vita che si è svolto questa mattina nella sede provinciale dei carabinieri in cui è stato illustrato il nuovo calendario che presenta per ogni mese un tema diverso a sostegno dell'ambiente 12 storie raccontate da un grande nome del giornalismo ambientale come Mario Tozzi accompagnate da immagini forti e iconiche realizzate dall'agenzia Armando Testa e capaci di cogliere l'attenzione dei lettori colpendoli nella coscienza. Un argomento che ci sta a cuore che è tutta l'amministrazione e che ci permette di dire con l'acquisizione del corpo forestale quindi è diventato come ruolo forestale ora la polizia ambientale più grande del mondo quindi un grande interesse come è certificato anche dalla modifica della Costituzione italiana quindi di grande interesse per tutto il nostro Stato per tutta la nostra popolazione quindi l'impegno dell'arma è quotidiano in quest'ambito. Ma negli anni l'arma si è sempre strutturata sin dalla sua fondazione quella che è la tutela dell'ambiente quindi anche per la sin dal 1816 quindi più di 200 anni fa c'era la possibilità due anni dopo la sua fondazione già uno dei compiti era quello di tutelare di tutelare quelle che erano le foreste, i boschi da chi ne voleva approfittare. Poi nel tempo logicamente si sono strutturati dei reparti specifici, siamo partiti con il nucleo operativo ecologico, con il comando carabiniero e tutela agroalimentare quindi per la tutela delle denominazioni di origine controllata, del DOC, DCG, DOP eccetera eccetera. Poi negli ultimi anni abbiamo avuto l'acquisizione del corpo forestale dello Stato che è diventato un ruolo carabiniero e un ruolo forestale quindi che ci ha permesso appunto di avere una competenza a 360 gradi nell'ambito della tutela ambientale, tutela degli animali e la tutela della biodiversità. A 360 gradi è anche l'impegno che l'arma dei carabinieri riversa nelle operazioni volte alla prevenzione e repressione di reati ad impatto ambientale. Logicamente non possiamo mai dimenticare che dobbiamo sempre fare vigilanza quindi l'attività è quotidiana sia da parte nostra come stazioni territoriali che da parte del ruolo forestale, delle stazioni della forestale che svolgono H24 un servizio di vigilanza su tutto il territorio, non soltanto appunto nel parco ma in tutte la nostra provincia che necessita di una maggiore tutela proprio perché è dal punto di vista ambientale molto bella e quindi molto ricca quindi necessita di un maggiore impegno. E restando in tema di ambiente torniamo a occuparci del parco Miralfiore dove questo weekend ha raggiunto quota mille firme la petizione organizzata dalla rete di associazioni ambientaliste la voce del Miralfiore apparecchiata per chiedere un confronto sulla gestione del parco nel quale secondo i firmatari della petizione si stanno facendo prevalere interventi di tagli arbore in nome della sicurezza e del contrasto allo spaccio di droga piuttosto che della tutela ambientale. Firme che a giorni saranno depositati in comune per la richiesta di un confronto a poche settimane dall'SIT ne tenutosi nello stesso parco al quale seguì un controappuntamento organizzato dallo stesso assessore Enzo Belloni per rivendicare la bontà e la competenza degli interventi svolti finora. 97 anni, 6 mesi e 29 giorni. E' questa l'età di una donna marchigiana morta sabato scorso che è diventata la donatrice di organi più anziana d'Italia. La donna è morta in seguito a una emorragia cerebrale e all'ospedale di Fabriano ha donato il suo fegato salvando così un'altra vita. L'intervento perfettamente riuscito è stato coordinato dalla dottoressa Francesca De Pace responsabile regionale del centro trapianti marchigiano. E alla palla di pomodoro di Pesaro da domani martedì 1 novembre fino a giovedì 3 novembre dalle ore 9 alle ore 19 sarà allestito un jumbo track della Fondazione per il tuo cuore per il progetto Banca del Cuore. Si tratta di un tour itinerante per l'Italia che ora toccherà la città di Pesaro offrendo ai cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e del tutto gratuito. Dunque una opportunità di prevenzione davvero da non perdere. La lotteria degli scontrini premia ancora una volta la provincia di Pesaro e Urbino. Un uomo del nostro territorio si è infatti aggiudicato 25 mila euro con l'estrazione settimanale. La vincita ha riguardato lo scontrino di un acquisto effettuato per generi alimentari e il vincitore ha commentato che la somma ottenuta sarà molto utile visto che entrambi i figli sono studenti universitari. La direzione centrale giochi dell'agenzia procederà ora con l'accredito sul conto corrente che avverrà entro 90 giorni dalla richiesta. Una seconda importante vigita nella provincia di Pesaro dopo quella aggiudicata da una signora del nostro territorio appena tre settimane fa che vinse addirittura 100 mila euro. Ci spostiamo a Mondolfo dove il comune ha intitolato a Donaldemiro Giuliani il centro diurno la rosa blu. Ieri è stato un momento di festa per l'amato parroco scomparso due anni fa a causa del covid e che ha fatto della sua vita una missione a favore dei più fragili fondandola su rapporti umani e sull'amore per il prossimo. La cerimonia è stata aperta con una messa in suffragio per il sacerdote e si è conclusa con una preghiera di benedizione della struttura alla presenza di tanti cittadini mondolfesi. Raffaele Gualazzi e altri 100 artisti si sono mobilitati ieri con una lunga maratona musicale che vi mostriamo in queste immagini, maratona dal titolo Terre Sonore per Cantiano. Una esibizione durata 10 ore al Teatro Conti di Acqualagna inserita all'interno della 57esima Fiera del Tartuffo Bianco. L'incasso dell'intera giornata sarà ora devoluto al comune alluvionato di Cantiano per il ripristino del centro teatrale Capponi. E rimanendo in tema di teatro si è conclusa ieri la 75esima edizione del Festival GAD. Nel prossimo servizio andiamo a vedere come è andata questa edizione del Festival d'Arte Drammatica rinnovandovi anche l'appuntamento con lo speciale realizzato dal nostro Paolo Pagnini che andrà in onda venerdì 4 novembre alle ore 21.20. Cala il sipario sul 75esimo GAD. Ieri mattina il Teatro Sperimentale ha ospitato la consueta premiazione degli otto spettacoli per altrettante compagnie teatrali in concorso al Festival d'Arte Drammatica organizzato dall'Associazione Amici della Prosa. A fare incetta di premi è stato lo spettacolo Sirano de Bergerac portato a Pesaro da un gruppo al debutto al GAD come la compagnia teatrale Archibugio di Lonigo. Compagnia vicentina che si è giudicato il premio Arlecchino per il miglior spettacolo decretato dalla regia presieduta da Massimiliano Giacometti. Sirano che ha vinto anche il premio Antonio Conti per la miglior regia di Giovanni Florio ha vinto per il migliore interprete con il suo attore Cristian Zorzi è stato premiato per i migliori costumi ed è stato giudicato miglior spettacolo anche dal premio Don Gaudiano assegnato dalla giuria studenti. La nostra prima partecipazione qui a Pesaro non ci aspettavamo un risultato di questo tipo e siamo ancora ubriachi di gioia per questo. Se devo dirla tutta c'è un premio che ci rende particolarmente felici ed è il premio della giuria Giovani perché il nostro è un teatro che si propone anche come proposta culturale si propone una volontà di avvicinare i giovani al teatro per cui vedere questa nostra volontà riconosciuta ci riempie di gioia e ci fa ben sperare per il futuro perché loro sono il futuro del teatro. Non solo Sirano, premi importanti ricevuti da un altro classico come Don Quixote Sancho Panza portato in scena a Pesaro dalla compagnia pugliese Calandra di Tuglie. L'interpretazione dell'opera di Cervantes è stata premiata per la miglior scenografia il miglior commento musicale e per Giovanni Serini giudicato miglior interprete giovane. Ernesto Fava ha vinto invece come miglior interprete non protagonista per l'opera L'Acquario mentre Tom Dick Henry dell'Accademia dei Riuniti di Umbertide vince il premio Ninchi offerto da Confesercenti come miglior spettacolo basato sul giudizio del pubblico e vince anche come miglior trailer il premio Sora offerto proprio da Rossini TV. È la fine di un festival molto importante che ci ha dato soddisfazione soprattutto di critica e di pubblico tutte le sere il teatro era quasi pieno tutte le sere ci sono stati applausi per tutte le compagnie sono state accolte benissimo le compagnie erano di qualità l'organizzazione era ottima e quindi c'è soltanto da essere molto contenti e anche orgogliosi di aver portato a casa questo 75esimo festival cosa non scontata. È uno dei momenti più belli i spettacoli sono meravigliosi e ne siamo felici ma veramente il momento della premiazione ma direi meglio della condivisione è uno dei momenti più emozionanti tant'è che ho avuto modo di dire che siamo il festival più vecchio d'Italia ma anche il festival più piagnone d'Italia perché poi veramente l'emozione ha dominato le parole di molti degli intervenuti perché è stato bello ritrovarsi tutti assieme a condividere una storia importante che si è trascorsa persone che si conoscono per la prima volta si vedono a Pesaro ma che si ritrovano protagonisti di una grande avventura come quella del festival quindi è veramente un'altra giornata bellissima sono contento e ringrazio Rossini TV per averla documentata per essere al nostro fianco anche quest'anno in questa bellissima iniziativa che è il festival E dal teatro passiamo al cinema perché Pesaro in questi giorni diventata set del lungometraggio Ancora volano le farfalle un film ispirato alla storia della 24enne pesarese Giorgia Righi ragazza affetta da una malattia rara la cui tenacia ha ispirato l'intera costruzione di questa pellicola Abbiamo donato anche un sorriso speciale a Giorgia che oggi si alza la mattina con una grande voglia di affrontare tutto tutto con un sorriso diverso Un sorriso quello che Giorgia Righi porta stampato sul suo volto per affrontare la vita al meglio delle proprie capacità e con il massimo ottimismo Giorgia è una ragazza di 24 anni che vive a Gallo di Petriano con la sua famiglia e da quando è piccola è affetta dalla tassia di Friedrich una rara malattia ereditaria dovuta alla degenerazione del midollo spinale e del cervelletto Questa malattia non le ha però tolto quella forza e quella determinazione necessarie per godersi la vita Ed è proprio questo modo di vivere che ha colpito il regista cinematografico Joseph Nenci che ha ben pensato di far conoscere la storia di Giorgia portandola sul grande schermo dei cinema con il film Ancora volano le farfalle lungometraggio che in questi giorni ha visto la città di Pesaro come set delle riprese Tutto è nato dall'amicizia che ho io personalmente con Giorgia Righi una ragazza meravigliosa pesarese tra l'altro motivo per cui ci troviamo in questa meravigliosa location a girare questo bellissimo progetto Giorgia purtroppo è affetta da una malattia un po' particolare e molto molto rara che si chiama tassia di Friedrich Ammetto che la prima volta quando l'ho scoperto ho dovuto anche io cercare su Wikipedia cosa fosse e non la conoscevo Giorgia però non ha mai voluto in realtà non ha mai espresso velleità di diventare famosa o altro però il suo unico desiderio era quello di far conoscere la malattia a più persone possibili perché proprio per il motivo del fatto che è una malattia rarissima c'è poca ricerca, c'è poca conoscenza io mi occupo di produzioni video e quindi l'unica cosa che mi è venuta in mente con Giorgia l'abbiamo buttata per scherzo ma poi si è materializzata nella realtà abbiamo detto Giorgia proviamoci facciamo qualcosa che possa arrivare in maniera un po' più diretta viviamo nell'epoca digitale dove i video ormai fanno da padroni sui social e tutto quanto dall'idea di un piccolo video da lanciare sui social promozionale per il libro che ha scritto che è Vivere Volando siamo arrivati all'idea di fare un film fondamentalmente e tra l'altro bisogna ringraziare l'amministrazione comunale perché ci ha dato a parte il cuore ma anche la possibilità di consegnarci virtualmente le chiavi della città in mano ci hanno concesso di girare in questi luoghi meravigliosi in centro il teatro Rossini tutto quello che di meraviglioso c'è in questa città la malattia che ha colpito Giorgia oltre ad essere rara è anche poco conosciuta e lei con la grande capacità di chi vuole prendere in mano la propria vita nel 2018 ha pubblicato un libro autobiografico dal titolo Vivere Volando libro di ispirazione anche alla prova attoriale di Beatrice Mariani che ha interpretato il ruolo di Giorgia Ricchi io interpreto Giorgia, è una ragazza solare, determinata, forte, dinamica che sa quello che vuole e vuole vivere a pieno la sua vita diciamo che interpretare questo ruolo non è molto facile bisogna essere molto delicati perché comunque trattare questi temi non è mai facile e da quando mi hanno raccontato di questo progetto, di questa ragazza ho subito deciso che voleva affrontare questa avventura nella maniera più precisa possibile nel senso che questa ragazza si merita il meglio e darò il massimo affinché lei sia orgogliosa di questo progetto ho questo ruolo bellissimo della sorella, di quella che sarà Giorgia nella storia ed è un ruolo che effettivamente mi è molto vicino nel senso che è questa sorella iper protettiva, mettiamola così che si prende proprio del tutto cura di sua sorella dimenticandosi quasi un po' di se stessa il mio ruolo è quello di un personaggio che a causa di alcune vicissitudini che ha vissuto nel suo passato ha bisogno di supporto e di conforto e incontrerà Giorgia appunto nel film che è una persona che pur avendo scoperto una patologia abbastanza grave all'età di 12 anni ha un'energia, una positività di una forza veramente immensa che riesce non solo a gestire la propria vita in maniera splendida ma anche a trasmettere agli altri tutto ciò che serve per affrontare ogni situazione e concludiamo il nostro telegiornale con lo sport andiamo a vedere i risultati del weekend per quello che riguarda le nostre squadre impegnate nei campionati di basket calcio, calcio a 5, rugby, volley e tennis strepitosa terza vittoria in campionato per la Carpegna Prosciutto Pesero altri due punti in classifica timbrati da un canestro fantascientifico quello che all'ultimo secondo si inventa Cittam smarcandosi da due uomini addosso e piazzando da distanza siderale la bomba del 97-98 con cui la VL espugna Brescia una vittoria dal peso specifico superiore ai due punti perché ottenuta senza tambone, ancora senza delfino e con un finale senza Moretti e Abdurrakam fuori per falli così come senza Cocherepeja espulso finale esplosivo di una partita equilibrata con Pesero che chiude avanti nel punteggio secondo e terzo quarto prima di arrivare costantemente in bilico ad un finale condizionato da un arbitraggio discutibile ma deciso dal tiro spacca partita di Cittam bene la VL, male la Vispesero che a Reggio Emilia perde nettamente 3-0 contro la Big Reggiana confermando tutti i problemi di quest'autunno Vischi deve pure ringraziare il suo portiere Farroni che lascia Pesero per 75 minuti incollata alla partita dopo che al vantaggio Reggiano Di Gliebre dopo 7 minuti era seguita la parata del portiere sul rigore fallito dalla linea al diciassettesimo ma la Vis non punge, la Reggiana preme e vince 3-0 grazie alla doppietta di Montalto fra 75esimo e 79esimo minuto Vittoria galvanizzante invece in Serie D per l'Alma Juventus Fano che nello scontro al vertice di Avezzano vince 0-2 beneficiando di due rigori nel primo quarto d'ora della ripresa entrambi realizzati da Broso una vittoria che consolida il secondo posto in classifica dell'Alma nel calcio a 5 l'Ital Service rimedia un pareggio 3-3 ottenuto in rimonta contro Pomezia che fugge sul 2-0 dopo 17 minuti salvo essere ripresa nel secondo tempo dalle reti di De Oliveira e João Miguel Pomezia torna avanti 3-2 ma è un rigore del solito De Oliveira a fissare il 3-3 definitivo chiude alla grande invece il mese di ottobre la Fiorini-Pesero-Regbi i giallorossi battono Livorno 31-7 segnando 5 mete e prendendosi altri 5 punti in una classifica irrobustita dalla terza vittoria consecutiva in altrettanti match giocati al Totti Patrignani nel volle invece la Megabox Vallefoglia rimedia la seconda sconfitta consecutiva per 3-0 ancora con un'altra big del campionato Conegliano passa ad Urbino ma dopo due set chiusi sul 25-13 e 25-18 trova una Megabox che se la gioca alla pari ma non basta le venete calano il tris con un 27-25 chiusura dedicata al tennis ieri al circolo tennis Baratov è andato in scena il campionato di Serie A2 maschile dove Pesero ha pareggiato 3-3 con il tennis club Piazzano l'asso pesarese Luca Nardi ha vinto il suo singolo idem per De Rossi così come Nardi ha vinto in doppio oppure con Giacomo Giunta pareggio per il tennis club Baratov che domani martedì 1 novembre avrà un nuovo match a Pesero contro Trento nella Serie A2 femminile le ragazze del tennis club Baratov hanno invece perso 3-1 a Palermo e con lo sport concludiamo questa nostra edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo come di consueto alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla nostra prima serata che vede la ripartenza della nuova stagione di Check Up Obiettivo Salute il programma realizzato dal nostro Antonio Astuti in collaborazione con Fisioradi Medical Center che da oggi andrà in onda tutti i lunedì alle 21.20 prima puntata che porta a intervistare anche Maurizio Radi con la storia di Fisioradi Medical Center appuntamento come detto alle 21.20 prima replica alle 23.15 e poi lunedì anche dedicato allo sport continua l'esclusiva di Rossini TV con le partite indifferita della Fiorini Pesaro Rugby rivedrete tutte le immagini della vittoria sul Livorno Rugby questa sera alle 22.00 e poi l'informazione di Rossini TV torna puntuale domattina con Buongiorno Rossini la nostra consueta rassegna stampa dei quotidiani locali che come di consueto va in onda in diretta dal lunedì al sabato edizione del martedì che sarà condotta dalla nostra Emanuela Rossi e si conclude qui Rossini News vi ricordiamo che domani non andrà in onda il telegiornale Rossini News tornerà comunque mercoledì 2 novembre è davvero tutto per questa edizione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei programmi di Rossini TV e vi ringrazio per averci seguito